Questi quattro angeli hanno avuto la loro giustizia. Ci sono voluti tre anni, tre anni di dolore e battaglie per avere una risposta che a un certo punto sembrava non arrivasse. Per questo oggi i genitori dei quattro angeli sono sollevati, perlomeno si sentono compresi dopo che il trentenne Mario Salim Marinica nel tardo pomeriggio di ieri è stato trasferito in carcere a Venezia a poche ore dalla protesta che li aveva portati negli uffici della procura veneziana per scongiurare l'imminente scadenza dei termini per la carcerazione. A inizio settimana la Cassazione aveva confermato la sentenza d'appello per l'omicidio plurimostradale. Quella notte tra il 13 e il 14 luglio 2019 l'auto del romeno speronò il mezzo dove viaggiavano i quattro ragazzi Riccardo, Leonardo, Leonore e Giovanni per poi darsi alla fuga. In questi anni Marinica ha sempre vissuto a Musile, poco distante dai genitori delle vittime. Noi l'abbiamo visto molte volte, non nego che alcune volte istintivamente anche se alcune persone avevano sempre da ridire o da criticare perché passavamo magari davanti ma anche se tu non passi davanti automaticamente quando vai in cimitero e vedi tuo figlio e sai che questa persona è qua non può non scattare quella rabbia che hai dentro nel dire ma è possibile che su lui sia l'interazza che fuma una sigaretta, che sta bene e questi quattro ragazzi non hanno ancora giustizia. Di certo a fare la differenza è stata anche la forza di mamma Romina che all'indomani della tragedia ha fondato un'associazione per la sicurezza stradale e così si rivolge ai genitori che vivono il suo dramma. Io vi dico non mollate, non mollate, continuate a lottare, continuate a combattere perché prima o dopo la giustizia arriva e se avete bisogno l'associazione sarà sempre disponibile e io per prima sarò lì a darvi una mano, a portare avanti le vostre battaglie.